Ti sei mai trovato a fare ordini su internet e poi a non concludere perché qualcosa non te la chiavo oppure non capivi dall'immagine o da quella descrizione di poche righe se quello era il prodotto che faceva per te e magari non era convincente per colore, per misura, per qualità, per marca, avresti voluto chiedere più informazioni, avresti voluto qualche chiarimento in più ma poi non sapendo come fare puntualmente buttavi giù, abbandonavi l'acquisto o magari sei semplicemente tra tutte quelle persone che mi scrivono in privato quando pubblico tutte quelle belle cose, quegli accessori su Instagram e su Facebook che mi scrivi perché vuoi acquistarle però non sei registrato sul sito, non ti va di fare la procedura, non ci capisci molto di internet, avresti bisogno d'aiuto o semplicemente sei tra tutti quelli che non si fidano di un sito internet del quale magari non sai chi c'è dietro. Io sono Andrea Costantini di Fishing Evolution e sono stato, sono nato dietro al banco del mio negozio aperto dai miei genitori nel 69 e questa cosa mi capitava praticamente ogni giorno, è stato il mio mood da sempre ed è il mio punto di forza, quello che mi ha permesso di posizionarmi in questi anni come il negoziante di fiducia che ti spiega le cose e ti fa anche risparmiare. Ora il banco non c'è più, i tempi cambiano, il lavoro si evolve e il punto vendita fisico è stato chiuso per dedicare più tempo alla vendita online ma senza ovviamente trascurare quella che per tantissimi anni è stata la mia filosofia di vendita e alla fine ho fatto quello che dicevo di voler fare ormai da un po' di tempo, sparire dal banco per essere più presente qui con voi e per questo ho attivato un servizio, un nuovo servizio di ordini in videochiamata, quella che io chiamo la nuova era degli ordini assistiti che poi alla fine sarebbe la naturale evoluzione di quello che per molti anni io ho fatto nel mio negozio al pubblico. Ti spiego i vantaggi di questo ordine in videochiamata e alla fine ti spiego anche come funziona perché è semplicissimo. Potrai ordinare da casa tua, non dovrai metterti in macchina, non dovrai venire al negozio, non dovrai fare fila né traffico, non sarai costretto a muoverti. Lo puoi fare tranquillamente da casa, dalla portrona di casa tua, potrai farlo dalla spiaggia perché ti rendi conto che ti manca qualcosa e mi chiami. Ti sembrerà di stare lì, ti sembrerà di stare qui nel mio magazzino perché ti risponderò da qui e quindi in videochiamata potrai vedere tutto quello che è presente, risponderò alle tue domande, ai tuoi dubbi, ti aiuterò nella scelta dei prodotti, ovviamente senza il pericolo di sbagliare. Ti mostrerò e ti spiegherò i prodotti direttamente in videochiamata. Ti faccio un esempio, canna e mulinello, non vedrai la grafica, la vedrai, te la aprirò, te la mostrerò, la venterumo sottosforzo, il mulinello te lo spiego, la bobina, la frizione, una postazione evo tripod e te la monto, ti faccio vedere i componenti, ti consiglio cosa metterci, cosa non metterci, gli accessori per fare i travi, la girella giusta, la perlina giusta, il diametro di filo, lo stopperino, capisci l'importanza? Ti seguirò per 30 minuti in esclusiva e mi metterò al tuo servizio. Chiaro no? Quindi adesso ti spiego come fare e te l'ho detto già prima, è semplicissimo. Ti lascio un link secondo di dove stai guardando questo video, lo troverai sopra o sotto. Clicca su questo link e ti si aprirà un calendario, semplice, semplice, ti si apre un calendario dove potrai scegliere un giorno ed un orario di quelli disponibili. Cliccaci sopra, scegli la tua mezz'ora di tempo e inserisci quei 2-3 dati richiesti che poi tra l'altro sono il tuo nome che mi serve per chiamarti, per sapere come ti chiami nel momento in cui ti telefonerò in videochiamata. Ovviamente anche il tuo numero di telefono che mi servirà per fare la videochiamata e sotto mi scriverai anche la motivazione di questa videochiamata che servirà a me per essere più preparato nel momento in cui ti chiamerò. Semplice? E te l'avevo detto che era semplice. Dai, non vedo l'ora di fare ciò che mi piace tanto. Seguirti nell'acquisto, spiegarti e consigliarti. Ciao!